Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video Sto registrando questo video subito dopo Dopo aver registrato il video della Video reaction anzi Anzi sono 9 Perché? Perché non so se riesco a deditarli Tutte dentro per pubblicarli Perciò andiamo a vedere subito il battle pass E si incomincia ragazzi Ce lo scioppiamo Vediamo prima com'è il battle pass E poi ce lo scioppiamo Perché allora Sono sincero con voi Perché devo essere sincero Voglio essere sincero Molte persone mi hanno detto che il battle pass fa schifo Però Diamo lì un'opportunità Vediamo un po' com'è Innanzitutto rocks Ok La prima non mi piace Seconda Più o meno Terza Niente Ecco Già da qui E' Viola Viola ci sta Viola Nera Nera GG per la nera Però Per avere il resto Fa un po' cagare Est Nera e verde Qua ci sta Più o meno Fa comunque un po' cagare Però Vabbè No No è abbastanza bella No è abbastanza bella No perché se no poi la insulto troppo E' quello è il problema Perciò noi non insultiamo Ok O perlomeno ci proviamo ad insultare Vediamo la prossima skin Sentinella Non mi piace Non mi piace Non mi piace Vabbè poi qua vabbè Naturalmente più in personale Amor Prodicioso Figo No Non è figo 100 vbac Vabbè No Questa Sentinella Questa è mirata Che figa Questo è figo Poi rox Vabbò Tupilio è figo La scena è figa Poi aspetta No Perso tipo Ah Fauci feroci Non mi piace Non mi piace Beh questo Lava crescente Il pavimento Lava davvero Perché Vabbè 200 vbac Giustizia Bello 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 Poi Un gira di t-rex Da questa parte Poi evviva Che caccia di cosa E' una figata E' una figata Raga Con sta voce Con sta voce Vabbè Lo facciamo avanti Vabbè Rotazione turbo Figo 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 Vabbè Raga E' troppo Figo Cos'è Il thrifting Ma perché Ma perché Fa forte del 7 deriva In season 5 Da 100 vbac Vabbè Maturo Non mi piace Non mi piace Poi Jones Pixel Vabbè Qui Rocks Ah voglio vedere se in questo battle pass ci stanno gli animali Sono molto curioso L'altro campo Non mi piace Non mi piace Ah è lui Jonesy bunker Jonesy Raga Vedete la pronuncia Jonesy bunker Io lo chiamo Jonesy bunker Che poi sarebbe Metà 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 Perché si Guardate E la skin Da labbo Però con la banana Se ci fa di cosa Più Sì Poi vabbè Questo Bello Il nome di Stemonicons Sgargiante Chilo Falco Solare Perché Mi chiedo Io Mille V Boc Mille Ho letto Mille V Boc Sto scherzando Mille V Boc Sono 100 V Boc Che cosa No Che cosa No Aspetta Che cosa Sto Cosa E figo Però Non mi fai Impazzire No Devo essere Sincero Non mi fai Impazzire E figo E figo Conquista Vichinghi Questo Valedetto Perché Abbastanza Bello Ma si sono fumati Qualche cosa Prima il ballo Ma questo Che è la gallina Vabbè Raga Si sono fumati qualcosa Sto post 100 Frisbee Vabbè Dal nulla Futuro Luminoso Spricciola Boom Lo sai che Mi fa Cagare Colpo Scarmato Questo Potrebbe Essere Figo Però Se me lo metteva Dal pass Gratuito Era bellissimo Se me lo metto Dal battle Pass C'era un po' Ritenza 100 V-back Va bene Per questo Troppo In più Questo E figo Come mi Adica Questo E figo Poi Vabbè Questa Chi O Viola Non mi piace Troppo Dai Che Figata Ma come E figo Vega E vegana Vega Vigana La vendetta In persone E la madre Va bene Siamo a livello 58 Del battle Pass E non mi sta Ancora facendo Impazzire Però fa un bot Rinesso Pass Banane Ok Non facevo Dovente Aviazione Reale 100 V-back No vabbè Dai un premio Una bella Sto passo Non a sto passo A sto disco Ti prego Il disco Ora E la figata E la figata Vox Non si sa Come Vox Però è figo Aspetta Vediamo Come si fa A sentire Il suono Ma come si fa A sentire Il suono Vabbè In bokeh Ora ci stavo Un testo Per esempio Il suono Però non so Qual è Nana 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 Ok Centri Back Bello Come Maggi Però Macchia Macchia rosa E sarebbe Molto figo Per fare Tipo Paintball Stemigati Così Una squadra E sto tipo Di colore Capito No vabbè Ragazzi Sto volando Questa è una figata No questa è una figata Ragazzi Un po' Ti senti Che fa Schifo Cosa Stai Che fanno Il mio Manto Vero Oh La smetti Schifiamo Perché E figo Però Non troppo E figo Si Il balletto E' molto Figo Però Sto balletto Lo puoi Stare Se lo Quando fai Vittoria Reale O Sanno Quando Fingi Uno Fai Stacosa Della Vittoria Reale Tanto La vinco Capito E' abbastanza Figo Andiamo Avanti 100 V-back Frisbee Elegante Questo Mi piace Questo Mi piace Questa Ragazzi E' una figata E' una figata Io l'ho detto Prima Aspetta Come si chiama No no Voglio sapere il nome Voglio sapere il nome Leggendo In fusione Vabbè Come si chiama Stratus Avventurati Nell'occhio Del pericolo Fa parte Del set Predatore Di Tampest Reattivo Perché Vabbè Figo Hanno messo No Hanno messo L'emoji Blu Con Quello Animato E' una figata Che Arancione Non mi piace Troppo Comunque Si sono un po' Sprecati Degli animali Ne hanno messo Solo uno Stratus Questo Abbastanza Sì Figo Figo Poi colpo di fulmine E' la mamma Figo Però è molto simile Guardate raga E' molto simile A questa scia Glifi E' molto simile Cerco di non spoilerarmi Un po' Ok Questo Vendicatore Non mi piace Non mi piace Calore Vabbè Questo Questa No Questo è fila Questo è fila Questo è fila Questo è fila O poco Scia di plasma Bella E' una scia Classica Blu Perché io Di scie classiche Non ne ho Solo quella Da liumbo Più meno Ah guarda Se stai così Si infonde Tipo Vabbè Poi Oh Si sono molto Con i dischi Perché è una figata Perché Due dischi Sono due Bombe Io metto questa Musica a palla Non so Luce a neon Ah dai Non mi è mai capitata Una cosa Nel giro Livello 95 E ballo blu Vabbè Comunque Figo Però è figo dai Ti prende Poi Ti prende Che cosa L'ultima skin Non so Potrebbe essere Brutto Bella Però Sono a carico Di potenza Abbastanza bella Si Animata E' bella E' bella E' bella E' bella E' bella E' bella Centro In book Sentino Alla scura Non mi piace Non mi piace Inveglianza Tipo Si chiama Sto Spine Capito E' Tipo La scritta Iniziale Si Si Però Fa un po' Cagare Questo è un po' Più carino La 10 su 11 E' un po' Più carino Però Non mi piace Troppo Sarà perché Secondo me Perché non mi piace C'è tipo Il cappuccio Ok Se non mi piace Allora Adesso Andiamo a vedere Disponibile Con il pasta Vabbè Io non so Se shopparmelo Però E' troppo Belli Sti Belli Raga Mi fa Troppo Raga Come lo shop E' lo shop Ci siamo Questo Questo Non può Essere Ma basta Allora Adesso Un video Questa gente Deve Oltre 3500 Mi Ma Abbo Tanto Le cose Il battle Pass Le sappiamo Perciò Non so Se shopparmelo Vabbè Aspettate Un attimo Che ci penso Mi rivedo Un po' Tutto Il pass E A dopo Ok Ragazzi Ho riflettuto Un po' Me lo vorrei Shoppar Mi roba 950 Oltre Il back Bucks Il back Non ne vale la pena Diciamo che Non è che non ne vale la pena E che non Perché comunque le cose sono molto belle Però diciamo che Qualcosa in più No ragazzi Non è troppo Sono che Non lo so Non lo so Sono molto indeciso Facevo che non me lo show Aspettate un attimo Ok ragazzi Ci ho pensato un bel po' Tipo Dalla mezz'oretta Che sta registrando Però me lo sono voluto Shoppar Non è un gran Lo so Shoppar Però Abbastanza Tipo questo Ma non è che è bella Perché poi non è bella Però fa rid Quello è il problema E che fa rid Ah poi Io direi di acquistare Sto battle pass Dopo di questa Non si torna più indietro Battle pass potenziato Vabbè Aspettate cosa sta generale Ti ho detto? Ha detto battle pass No ragazzi Che cosa sta? Fort bite Che cos'è? Aspettate Aspetta Posso volare Ma qua ci voglio Una troppe piepe Fa sta cosa Aspetta Ma ci voglio Una troppe piepe Per fa sta cosa Fort bite Ci vogliono Ci vogliono Vabbè Ci vogliono Troppe piepe Ottieni 90 fort bite Ok Ok Ah beh Ok Ok O comunque Questo colore Turchese Mi piace Poi Questo viola Dira Rosa Aspetta 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 Bello Va bene Comunque Niente Per questo video è tutto Lasciatevi se vi è piaciuto Iscrivetevi al canale Ci vedete la campanellina Da lupine tutto Ciao Ciao